In collaborazione con Asus. Sylvester Smith, grande protagonista sulla salita di Punta Veleno, vicino alla vittoria. Comunque un bel regalo per i giornalisti e commentatori polacchi che sono arrivati numerosi qui al 36esimo Giro del Trentino. Certo, sono contento che proprio ieri dove sono riuscito a raccogliere un bel secondo posto su una salita così dura, ho trovato all'arrivo, come hai detto, i numerosi giornalisti polacchi, fa sempre piacere. Il secondo posto è stato un ottimo risultato, forse un po' delusi perché speravate che potesse vincere ieri? No, 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 sono contento, anche i polacchi e i tifosi sono contenti di essere il resto. C'è poi il secondo posto ieri a tappa, il terzo posto a generale classifica oggi. Vediamo che fare è Sylvester e io penso che vinci. Oggi vince Sylvester? Ma non lo so, più che altro stiamo a vedere come è la tappa, se si arriva su Pordoio o no. Se si arriva in cima, certo non molo e cerco di dare il tutto per vincere la tappa. L'anno prossimo una tappa del Giro di Polonia, anzi la partenza del Giro di Polonia sarà qui in Trentino. Com'è nata questa idea e cosa ne pensate dei percorsi del Trentino? A Trentino c'è bella regione, due tappi, su Tania è buono, buono. Certo, come ha detto il collega, è una cosa bella, il Trentino è una bella regione, così sarà un po' meglio conosciuta fra i polacchi. E se sarà così, che ben venga. Asus